ciao ciao a tutti noi pensiamo che i murazzi siano molto troppo bene grazie alla nostra amica michela che si è fatta un culo così e soprattutto che ci offrirà tre birre medie doppio male in realtà non dipende da lei però siamo molto contenti di questo che lei ci sia dentro dovete farla diventare molto ricca ed è una persona molto ma molto in gamba data cedere quello che dice dare amiche la cosa che vorrei aggiungere magari una spiaggia di nudisti se possibile è possibile ovviamente poi dopo andiamo a se ci sono io vorrei noi lei lei è andato al sexy shop lui lui è andato che poi rimane poco credibile ricordiamoci comunque tutto l'impegno per fare tutta questa cosa e diciamo che ci piace grazie a tutti ciao ciao